Ti prego, Abby, cura di Herbie. Per ogni tuo problema lui ha una risposta. Grande, un biscotto cinese con le ruote. Ora... Che sta succedendo? La magia di Herbie è di nuovo pronta a scatenarsi. È più potente di quanto pensassi. Si corre. È più forte. Forza, Herbie. È più veloce. È più Herbie che mai. Herbie, è troppo giovane per te. Oggi vi farò vedere tutte le parti di Herbie, la mia macchina. Quando praticamente noi la prendiamo e ci facciamo un giro, Herbie è sempre contento. Vedi qua? Non c'è la portiera. E, non ve lo dico già, gli occhi pieni da dentro. Sono finti. Questo è il motore di Herbie. Sì, me vedrai. Ufff. Ciao. Ciao. Ciao